Oggi come oggi c'è gente al centro, o mi piace più la passera, o non ha più voglia di trombare. Hai ragione, però ti guarda la strada, ti guarda per bene la via. Ma lo sento nell'aeroporto almeno. Io lo so, lo so dove l'aeroporto, invece è forte, invece è forte. Sta a spegnere, su, 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 spegna, su, tranquillo, che hai fatto? Ho sonno, ho sonno, ho sonno, c'ho una babagna coltata tutta la notte, ma scusate, Sì, ma comunque, io c'è porto, che c'è porto, allora. Ma, o, o quanto pesi quando ho? 116 teli, quanto ho mai alle sei mesi? Oh, certo che con te la donna gode due volte, quando viene e quando ti rialzi. C'è, 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 c'è quanto le bombarde a te, eh? Quanto ne ho fatte patire? Duravo 25 secondi, aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Come il motore a scoppio. Eh, guarda. Oh, 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 oh. Piano, oh, oh. .